Le cantine Caggiano sfidano i colossi del vino, c'è anche il Macchia dei Goti Taurasi 2010, tra i tre migliori rossi d'Italia che si contenderanno a Roma nel mese di giugno l'Oscar del Vino 2015. Un riconoscimento importante per tutta la filiera vitivinicola erpina e per un marchio che da 20 anni esporta nel mondo l'eccellenza di questa terra. Stiamo con un grande Barolo e un grande Amarone, sono due colossi del vino del nord. Noi siamo piccolini rispetto a loro, però io ho grande fiducia. La ricetta segreta è questa, il vino si fa con l'uva, l'uva deve essere di grande qualità. Il vitigno aglianico è un vitigno molto particolare che si vendemmia molto tardi, si vendemmia fine ottobre, inizio di novembre, noi facciamo la vendemmia. Da queste cantine dove l'arte del vino incontra quella della fotografia, altra grande passione del capo famiglia Antonio, passano quotidianamente americani, giapponesi, cittadini del mondo, ammaliati dal fascino e dalla suggestione. Ho fatto il deserto del Sahara, ho chiamato un mio vino Bechar, un luogo del deserto, bellissimo. Sono stato al Poli, in mezzo agli orsi, ho chiamato un mio vino, il Greco di Dufo, Devon, e perché sono tutte esperienze, sensazioni fortissime della mia vita che le ho trasferite in questi vini. Una sfida per cui Antonio Caggiano chiama tutti gli irpini a raccolta. Per votare basta collegarsi al sito www.bibenda.it e seguire le istruzioni di voto. Facciamo grandi sacrifici per valorizzare il nostro territorio, il nostro Taurasi, che è una terra baciata da Dio e abbandonata dagli uomini.